Con la conclusione dei riti della settimana santa sancataldesa è tempo di rinnovare i ringraziamenti nei confronti delle associazioni e dei volontari della protezione civile che si sono impegnati tantissimo per la realizzazione e l'ottima riuscita degli eventi in calendario a San Cataldo negli ultimi giorni. Ringraziamo, dice in una nota il sindaco Gioacchino Comparato, anche tutti i cittadini che a vario titolo hanno dato un contributo alla settimana santa e che hanno partecipato ai diversi numerosi appuntamenti. La nostra amministrazione, dice Comparato, si è spesa molto affinché la nostra comunità potesse tornare alle proprie tradizioni e alla propria religiosità. Una settimana che di fatto ha rappresentato un ritorno ai nostri riti secolari. Tutto ciò nonostante gli eventi siano stati organizzati velocemente dal momento che le restrizioni sono cessate il 31 marzo scorso. Questo dunque è il commento del sindaco di San Cataldo sui social. Comparato conclude, oggi la nostra comunità può essere fiera di avere dimostrato che San Cataldo vuole ripartire e che intende farlo tornando alle radici e di conseguenza alle sue tradizioni più importanti.